Giorno a tutti ragazzi, come va? Spero tutti benvenuti su Nerd Show Movie Ita Oggi parleremo di Vita da Yamcha Un manga che avete già visto ambozzare sul canale E' uno dei penultimi video che ho fatto Cioè penultimi per modo di dire, poi ne sono usciti altri 6 video dopo Però sempre abbastanza recente Dell'anno scorso però, logicamente del 2020 Allora, Vita da Yamcha Partiamo dal presupposto che questo manga lo potete trovare su Amazon Al costo di 4,90€, 4,50€ Adesso qui c'è scritto 4,50€ Ma logicamente poi su Amazon mettono un po' i costi che vogliono Può essere che alcune volte lo mettono a meno, alcune volte lo mettono a di più Non si sa mai Comunque, è una storia di Akira Toriyama Art Pro Dragon Raul E... Cosa posso dire di questo manga? Logicamente è molto più piccolo di tutti gli altri Cioè, ha meno pagina Adesso vi faccio vedere uno con paragone Ok, bene, questo qui è il numero 1 dell'Evergreen di Dragon Ball Che forse inizierò a collezionare Come potete vedere come spessore ci saranno circa una novantina in più Una tantina minimo, ecco Ma comunque è abbastanza sostanzioso e divertente da leggere Tranne quello, adesso vi parlo un po' di cosa tratta la storia C'è questo ragazzo insieme al suo amico che stanno camminando e vede una bella ragazza Dopodiché corre e cade dalle scale Dopo qualche minuto si rincarna in Yamcha Adesso, più avanti scopriremo che in realtà non è morto veramente Ma... Adesso piano piano c'è Ria Si ritrova nel mondo di Dragon Ball Logicamente lui, essendo che è un grande fan Logicamente è ambientato anche nella vita reale, ecco Colui è un grande fan di Dragon Ball E quindi sa praticamente già tutta la storia E quindi sa... Cercherà di fidanzarsi con Bulma Cercherà di diventare più forte di Goku Perché noi come sappiamo Goku e gli altri si separano E Goku si va ad allenare dal maestro Muten Qui invece anche Yamcha va insieme a Goku ad allenarsi insieme al maestro Muten Così diventerà più forte e tutta quella roba Riuscirà a sconfiggere Cell, Vegeta, Nappa e cose varie Logicamente, essendo che sa anche già tutta la storia Sa praticamente già tutti i trucchi E quindi è molto interessante Una cosa ancora molto più interessante di questo manga È che praticamente alla fine Ve lo sto logicamente riassumendo, non ve lo vado a spoilerare tutto Si scopre che in realtà non è morto Ma ci sono solo i due carissimi fratellini gemelli Cioè Beerus e Ciampa Che stanno giocando Ecco qui la bellissima immagine con Beerus e Ciampa che stanno giocando E perché mentre No Yamcha è stato più forte Ho vinto io No accetto Accetto proprio L'abbiamo capito da ormai un bel po' di video Io leggere Comunque dietro c'è il riassunto Per chiunque se lo volesse leggere senza spoilerare Stoppate Perché come sapete io Leggere forse anche no Se non ci volete mettere 30 anni Stoppate e ve lo andate a leggere L'unica cosa che non mi è piaciuta Proprio di questo racconto Che dura troppo poco È un po' insensato Pochino Ma tranne quello è bellissimo Cioè proprio È proprio il no sense Che Dà il bello al manga Logicamente Lui sa già tutto E vediamo delle scene Che si spolgono anche già All'interno del manga Ad esempio adesso ve ne faccio vedere una Qui c'è la scena dove Yamcha incontra i grandi tre avventurieri Cioè Oscar, Goku e Bulma E adesso vi faccio vedere la scena nel manga originale Ecco qui La scena Logicamente lui viene Quando stanno dormendo Ma comunque la scena è questa Dove Yamcha Oscar, Goku e Bulma Sono nel deserto Arriva Yamcha Che sta cercando le sette sfere Allo stesso tempo Li vuole rapire Bla 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 Tutta la storia Comunque lo sapete Perché lo sapete Punto e basta Ok In vita da Yamcha Questa qui è la scena Dove loro si separano E c'è pure Goku e Yamcha Sopra la nuvola Kinto Che se ne stanno andando Dal maestro Muton Mentre nella scena originale Che adesso purtroppo Non ho però Vi metto la foto C'è solo Goku Sopra la nuvola Kinto Che se ne sta andando Dal nostro carissimo Nonnino Cioè Nonnino Inteso Maestro Muton E rimita della tartaruga E si separano Quindi abbiamo delle differenze E praticamente Yamcha Che poi in realtà Non è Yamcha Perché Ragazzi Reincarnato in Yamcha Cambia la storia di Dragomero Diventando lui Il personaggio principale Io all'inizio però Credo che vita da Yamcha Volesse dire Yamcha La vita Cioè proprio Cosa fa Yamcha Quando si sveglia Yamcha Ok Questo è un po' Esagera Però comunque Che allenamenti fa Prima di incontrare Bulma Goku Cosa Cosa faceva Per chiarire un po' Di più la storia Mentre poi Non è stato così E sono anche rimasto Un po' triste Sinceramente Ma tranne quello Il manga Lo stesso Bello è Alla fine del manga Ci sono pure Dei disegni Per niente male Dove vengono rappresentati I personaggi Adesso un attimo Che ve lo cerco Ok bene Ecco qui E qua ci sono Tutti Mi sono di nuovo Sbagliato Qui c'è già la presentazione Di Dragon Ball Super Nuovo manga Qui ma in realtà Adesso è abbastanza Anche di chioccio Cioè non tanto di chioccio Però Diciamo che non è così Tanto recente E mi sono sbagliato Di manga Scusate Comunque ragazzi Spero che il video Vi sia piaciuto Vi ricordo di lasciare like Iscrivervi al canale Se ancora non l'avete fatto Condividere questo video Con tutti i vostri amici Parenti Zii Nonni Nonni Zie Chiani Gatti Piante Farfalle Formiche Tutti gli esseri Viventi Vi sto anche a ricordare Che domani forse uscirà un video Con un mio carissimo amico Sperando che stavolta Non venga male Sì perché Doveva già uscire un video Con un mio amico Il problema è che Come si può dire Muoveva troppo il telefono E diciamo che L'editing non era per niente Venuto bene Perché Quanto cavolo costa Appoggiare il telefono Sopra una mensola Un soprappoggi telefono Come sto facendo io Ma tranne quello Domani Speriamo che esca questo video Se non uscirà questo tipo di video Ve ne porterò un altro Cioè Persona Tutti i personaggi di Batman Cioè Tutti gli attori Che hanno fatto Batman Beh Bye